Ed ecco servito sul settimanale Kill Gossip dell'estate che nessuno si aspettava. Da mesi era caccia al nome del nuovo fidanzato che avrebbe preso il posto di Francesco Monte nel cuore di Paola di Benedetto. La sensuale ex madre natura e concorrente dell'ultima isola dei famosi sembra averlo trovato. Il fortunato è Federico Rossi, un nome ben noto al pubblico giovanissimo. Si tratta infatti del Fede del Do Pop Benì e Fede, coppia di cantanti da Hit Parade che vanta una vera e propria venerazione da parte di ondate di teenager. Le immagini dei baci sul nuovo numero del magazine di Alfonso Signorini non lasciano spazio a dubbi. Quella tra Paola di Benedetto, 23 anni, e Federico Rossi, 24, sembra essere una passione autentica. Lo ha confermato, del resto, lei stessa chi, svelando come la loro frequentazione sia nata sul web. Ci siamo conosciuti sui social e non ci nascondiamo più. Per Fede, molto riservato sulla sua vita privata, si tratta della prima relazione nota con una VIP. La di Benedetto ha così archiviato definitivamente la brevissima liaisonata con Francesco Monte, che la lasciò dopo una manciata di settimane. Si è poi parlato di un flirt tra lei e l'ex velino Pier Paolo Petrelli, presto smentito dalla stessa Paola che aveva dichiarato. Visto che tanti faranno fatica a crederci sto bene anche da sola. Rossi, invece, le ha fatto cambiare idea. Anche l'altra metà del duo, Benjamin Mascolo, è felicemente fidanzato. Il ragazzo è infatti legato da oltre un anno con Demetria Vincola, attrice nota per il ruolo di Margot in un medico in famiglia 10. La coppia preferisce mantenere grande riservatezza sulla propria vita insieme. Chi se ne frega!